E ora, signori, un po' di attenzione. Quattro storie. Non so se posso dirglielo. Ho l'aspetto di una di cui non ci si può fidare. Raccontate dal genio indiscusso del crimine. Chi ha uscito vostro marino? Pinello! E interpretate da attori eccezionali. Ecco il Poirot! Non posso competere con lei, io sono solo un piedipiatti. Una sera con Agatha Christie. Poirot? Ma come ha fatto? Lunedì, 21.10. Maternì è grigia, mon amico. Top Crime. Maternì è grigia.